Buongiorno a tutti, è stato un periodo difficilissimo per Palazzo Merunana come per tutti gli operatori culturali perché sicuramente la pandemia ha colpito fortemente tutte le situazioni in cui c'erano aggregazioni sociali noi siamo un punto dove c'è molta collettività a Palazzo Merunana abbiamo anche avuto una grave perdita che è quella di Claudio Scherasi in questi giorni ma oggi vogliamo riaprire con una giornata di festa annunciando due grandi iniziative la prima, la famiglia Scherasi ha rielaborato la propria collezione portando delle opere bellissime, nuove che comunque rendono anche più fluido il percorso espositivo alle nostre spalle per esempio la Gorgone di Gormitorai e qui per la prima volta la faremo vedere al pubblico Grazie a tutti